il prestito maramud il dolce inebriante profumo del pane bianco di lib attirava i clienti a frotte assai prima che fosse terminata la cottura delle pagnotte vicile dietro il banco beh sì la seconda moglie di lib scorse tra la gente uno sconosciuto un uomo fragile e grinzoso col cappello rigido che indugiava isolato ai margini della ressa sebbene lo sconosciuto avesse un aspetto abbastanza innocuo tra gli aggressivi compratori di pagnotte e panini lei si sentì subito preoccupata lo interrogò con lo sguardo ma l'uomo segnalò con un cenno di scusa del capo coperto che avrebbe atteso ben volentieri per sempre benché il suo viso luccicasse di infelicità se la sofferenza l'aveva assegnato egli non cercava più di nasconderne l'impronta quel luccichio era suo era lui ormai fu questo che diede a bessie un senso di paura sbrigò rapidamente i clienti e quando essi serviti con precisione micidiale se ne furono andati tornò a posare lo sguardo su di lui egli si toccò il cappello mi perdoni kobotski è qui lib il fornaio quale kobotski un vecchio amico disse rinfocolando la sua paura di dove di tanto tempo fa perché vuole vederlo la domanda era offensiva e kobotski mostrò la sua riduttanza a rispondere quasi fosse stato chiamato nel negozio dalla magia di una voce il fornaio senza camicia sbucò dal retrobottega le sue braccia rose e carnose erano appena uscite dalla pasta in testa portava con disinvoltura un sacchetto di carta marrone cosparso di farina anche gli occhiali erano impolverati di farina e il viso incuriosito era così bianco da farlo somigliare a un panciuto fantasma ma il fantasma che vide attraverso gli occhiali era kobotski non lui kobotski gridò il fornaio quasi con un singhiozzo perché erano così lontani gli anni che kobotski gli faceva ricordare quando almeno erano giovani tutti e due e le circostanze erano diverse non riuscendo per motivi sentimentali a trattenere le lacrime se le asciugò con una passata della mano kobotski si tolse il cappello era diventato quasi calvo dove libera grigio si terse la fronte congestionata con un fazzoletto immacolato lib balzò avanti con uno scabello si è di kobotski non qui mormorò bessi i clienti spiegò a kobotski tra poco c'è l'ondata prima di cena meglio nel retro a noi kobotski fu dunque là che andarono più contenti da essere a quattro occhi ma accadde che non arrivò nessun cliente e allora bessi entrò ad ascoltare kobotski sedeva in trono su un alto sgabello in un angolo della stanza con le spalle curve il cappotto nero addosso e il cappello in testa le mani rigide venate di grigio abbandonate sulle cosce magre lib strizzando gli occhi dietro le sue lune piene posava le ossa su un sacco di farina bessi prestò un orecchio attento ma l'ospite rimase muto imbarazzato fu libba a parlare ah dei vecchi tempi il mondo era nuovo noi kobotski eravamo giovani ti ricordi quando appena sbarcati dopo il viaggio in terza classe ci iscrivemmo insieme alla scuola serale aben hatte al suono delle parole gli sfuggì una risatina neanche una sillaba dall'uomo smunto sullo sgabello bessi impaziente sventolava qua e là uno straccio per la polvere le ad un'occhiata in bottega vuota lib che sosteneva tutto il peso della conversazione recitò per smuovere un po l'amico venite dice un giorno agli alberi il vento venite sul prato a giocare con me ti ricordi kobotski bessi annusò rumorosamente rib il pane il fornaio balzò in piedi a lunghi passi si avvicinò al forno a gas e abbassò uno degli sportelli sovrapposti appena in tempo tirò fuori i vassoi di pani marrone nelle forme roventate e li mise sul ripiano di stagno del tavolo da lavoro quando vide che se l'era cavata per un pelo bessi chioccò come una gallina lib sbirciò in bottega clienti disse trionfalmente rossa in viso la donna abbandonò la stanza kobotski con le labbra inumidite la guardò uscire lib si mise al lavoro modellando la pasta lievitata in una terrina di due vassoi di forme ben presto il pane fu infornato ma beh si era già tornata l'odore di miele delle pagnotte fresche distrasse kobotski respirò la dolce fragranza come se fosse la prima boccata d'aria che gustava e si batte persino il pugno sul petto al delizioso profumo oh mio dio sclamò quasi piangendo meraviglioso con le lacrime disse umilmente lib indicando il grande vaso di pasta kobotski annui per trent'anni spiegò il fornaio non aveva mai avuto un soldo in tasca un giorno dalla disperazione aveva pianto nella pasta da allora in avanti il suo pane fu tale da attirare clienti d'ogni dove i miei dolci non hanno molto successo ma il pane e i grissini fanno dei chilometri per venirli a comprare kobotski si soffiò il naso poi guardò in bottega tre clienti lib sussurrò suo malgrado il fornaio si irrigidì gli occhi del visitatore tornarono a posarsi sub essi che lasciava in retrobottega poi sotto due sopracciglia alzate interrogarono il fornaio lib però rimase muto kobotski tossì per schiarirsi la gola lib ho bisogno di 200 dollari la voce gli si ruppe lib si lasciò cadere lentamente sul sacco sapeva l'aveva sempre saputo al momento della comparsa di kobotski aveva pesato nei suoi pensieri questa possibilità contro il ricordo dei 100 dollari perduti e amari di 15 anni prima kobotski giurava di aver saldato il debito lib diceva di no fu la rottura di un'amicizia c'erano voluti degli anni per cancellare il ricordo di quell'affronto kobotski chinò il capo almeno ammetti di aver avuto torto pensò lib aspettando un tempo crudelmente lungo kobotski si guardò le mani rattrappite ex tagliatore di pellice l'artrite lo aveva messo sull'astrico anche lib guardò il bottone d'un cinto erniario gli mordeva il ventre entrambi gli occhi erano annebbiati dalla cataratta benché il dottore giurasse che ci avrebbe visto dopo l'operazione lib temeva che le cose andassero diversamente sospirò l'errore era nel passato perdonato perdonato al primo confuso apparire della sua persona per me senz'altro ma lei lib indicò verso la bottega lei è la mia seconda moglie è tutto a nome suo alzò le mani vuote gli occhi di kobotski erano chiusi ma glielo chiederò lib aveva un'aria dubbiosa mia moglie ha bisogno il fornaio alzò un palmo non parlare dille lascia fare a me impugnò la scopa e fece il giro della stanza sollevando nubi di polvere bianca quando bessi trafilata tornò indietro lanciò loro un'occhiata e con le labbra serrate attese imperterrita lib lavò rapidamente le terrine nell'acquaio di metallo ripose le forme per il pane sotto il tavolo e accattastò le pagnotte fragranti mise un occhio alla spia del forno cuoceva tutto stava cuocendo di fronte a bessi si sentì inzuppare da un sudore così caldo che per un attimo lo stordì kobotski si agitò in cima allo scabello beh sì disse infine il fornaio questo è il mio vecchio amico lei annui gravemente kobotski sollevò il cappello sua madre dio la benedica mi ha dato molte volte un piatto di minestra calda anche quando venne in questo paese per anni mangiai alla sua tavola sua moglie è una donna straordinaria d'ora un giorno la conoscerai kobotski gemette piano e allora perché non l'ho ancora conosciuta disse bessi ancora gelosa dopo una dozzina d'anni delle prorogative della prima moglie la conoscerai perché non me l'hai fatta conoscere lib intervenne kobotski perché io stesso non la vedo da 15 anni confessò lib perché lo incalzò lei lib si interruppe uno sbaglio kobotski guardò da un'altra parte colpa mia disse lib perché non vai mai da nessuna parte sputa bessi perché stai sempre in bottega perché avere degli amici per te non significa nulla lib annui solennemente ora è malata annunciò il dottore deve operarla costerà 200 dollari ho promesso a kobotski bessi lanciò uno strillo col cappello in mano kobotski salto giù dallo sgapello premendosi una mano sul petto bessi si portò un braccio agli occhi vacillava tutti e due si lanciarono avanti per sorreggerla ma lei non cadde kobotski tornò in fretta allo sgabello e lib si riportò vicino all'acquaio bessi col viso che sembrava all'interno di una pagnotta si rivolse pacatamente all'ospite sua moglie mi fa molta pena ma non possiamo aiutarla mi spiace signor kobotski siamo povera gente non abbiamo soldi un errore ridò lib furibondo bessi si avvicinò allo scaffale e prese giù una cassetta ne vuotò il contenuto sul tavolo e i fogli volerano dappertutto fatture urlò kobotski inarcò il dorso bessi abbiamo in banca no ho visto il libretto e con questo va bene hai messo qualche dollaro da parte ma hai forse un'assicurazione sulla vita lui non rispose puoi fartela lo schermilei la porta del negozio sbatté sbatteva spesso la bottega era piena di clienti venuti a comprare il pane bessi uscì per servirli nella retro bottega i due si mossero kobotski s'abbottonò il soprabito con le dita ossute siedi sospirò il fornaio lib mi rincresce kobotski sedette col viso acceso dalla tristezza quando bessi si fu finalmente liberata della clientela lib andò in negozio le parlò sottovoce quasi in un sussurro e lei rispose altrettanto dolcemente ma bastò un solo minuto per far scoppiare la lite kobotski scivolò giù dallo scapello andò all'acquaio in umidi mezzo fazzoletto e se lo portò agli occhi asciutti piegando il fazzoletto bagnato lo ficcò nella tasca del soprabito poi tirò fuori un temperino e si limò rapido le unghie quando entrò in negozio lib stava implorando bessi rievocando le ore più amare del suo lavoro la sua vita di stenti e ora che aveva qualche soldo che viveva a fare se non poteva dividerlo con un caro amico ma bessi gli aveva voltato le spalle per piacere disse kobotski non indicate ora me ne vado lib lo fissò esasperato bessi non girò la testa sì sospirò kobotski i soldi li volevo perdora ma non è malata lib è morta ahi assinamò lib torcendosi le mani bessi pallida si volta a guardare il visitatore non ora disse gentilmente lui cinque anni fa lib gemette i soldi mi occorrono per una lapide sulla sua tomba non ha mai avuto una lapide domenica saranno cinque anni che è morta e ogni anno io le prometto dora dora quest'anno ti darò la tua lapide e ogni anno non le ho dato nulla la tomba a sua eterna vergogna giaceva scoperta davanti agli occhi di tutti da tempo aveva versato un deposito di 50 dollari per una lapide col suo nome a lettere nitidamente incise ma non era mai riuscito a trovare il resto della somma e non c'era da fare una cosa ce n'era sempre un'altra prima un'operazione il secondo anno non aveva potuto lavorare nuovamente paralizzato dall'artrite il terzo una sorella vedova aveva perso l'unico figlio e col poco che guadagnava kobotsky aveva dovuto contribuire al suo mantenimento il quarto era stato messo fuori uso da foruncoli che lo riempivano di vergogna al pensiero di uscire in strada quest'anno almeno lavorava ma ciò che prendeva gli bastava appena per mangiare e dormire e così d'ora era ancora senza lapide e sapeva benissimo che un giorno o l'altro sarebbe tornato al cimitero e non avrebbe trovato più la sua tomba al fornaio vennero le lacrime agli occhi un'occhiata al viso di bessie allo strano rilassamento del collo e delle spalle gli disse che era commossa anche lei aveva vinto ora avrebbe detto sì dagli il denaro e poi si sarebbero messi tutti a tavola a mangiare insieme ma bessie pur piangendo scosse il capo e prima che se ne rendessero conto aveva vuotato il sacco delle sue disgrazie raccontò che i bolcevichi arrivarono quando lei era bambina e trascinarono il padre adorato senza scarpe nei campi coperti di neve gli spari dispersero i merdi sugli alberi e la neve stillò sangue e quando era sposata da un anno appena suo marito un uomo dolce e gentile un uomo istruito ragioniere cosa rara in quei giorni e in quel luogo morì di tifo a varsavia e che lei abbandonata al suo dolore qualche anno dopo trovò asilo nella casa di un fratello maggiore in germania il quale sacrificò le proprie possibilità per mandare lei prima della guerra in america e finì con moglie e figlia in uno dei forni crematori di hitler e così venne in america e qui conobbi un povero fornaio un poveraccio che in vita sua era sempre stato povero senza un soldo e senza una gioia in vita sua e lo sposai dio sa perché e con le mie due mani lavorando notte e giorno gli rimisi in piedi il negozio e ora dopo 12 anni tiriamo avanti un po meglio ma lib non ha molta salute anche bisogno di un'operazione agli occhi e questo non è ancora tutto mettiamo dio non voglia che muoia che farò io da sola dove andrò dove e chi si prenderà cura di me se non avrò nulla il fornaio che questo racconto l'aveva sentito spesso masticava ascoltando pezzi di pane bianco quando la donna ebbe finito getto via la crosta ad una pagnotta kabotchi alla fine della storia si mise le mani sugli orecchi con le lacrime che le sgorgavano dagli occhi beh si alzò la testa e sospettosamente annusò l'aria con uno strillo improvviso corse nel retro bottega e con un grido spalancò lo sportello del forno una nube di fumo la volse fluttuando le pagnotte sui vassoi erano mattoni anneriti corpi carbonizzati kobotsky e il fornaio s'abbracciarono sospirando la loro gioventù perduta schiacciarono l'una contro l'altra le loro bocche e poi si divisero per sempre che vorrei pronto vedi vedi vit vedi Grazie a tutti.